Amici sulla Route 66, cammino per voi, è veramente un grande spettacolo, Route 66, ho fatto un route. Io ho un appuntamento con Serafino Lindovino, il vulcano Magma Mia, vostro Flavio Sly, oggi più che mai in confezione spray. Guys, io sono gay friendly. In diretta chiederò alla mia amata Elisabetta di sposarmi. Bocca a colo di gallina, presumo! Devo recuperare l'anello per Elisabetta nel coraggio. Tu sei diventato un cretino dietro queste social, dietro queste cose. La potete fermare per favore? Una mozzarella quando è buona? Non mi posso fare veramente, raga. Quando scherza! Voglio Sly! A Giappone! Amici follow estra un po', c'è questo quadretto familiare che la Maria De Filippi se lo scorda. Poi abbiamo un quilo capo, lo capiamo, lo capiamo, lo capiamo, lo capiamo. Per come venire, raga? Da camionista! Dopo facciamo anche l'uovo. Sì, ho un dito così! Hi guys! Selezco tutti per la presenza! I'M ON IN! Sì, ho un dito! Sì, ho un dito così! Sì, ho un dito così! Sì, ho un dito così! Allora! 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 Sì, ho un dito così! Allora! Allora! Grazie a tutti